Sicuramente il contesto macroeconomico che attualmente viviamo ha un impatto molto forte sul budget familiare, soprattutto sul reddito d'ordo disponibile, il potere di acquisto, il proprio potere di dispesa di una famiglia negli ultimi 5 anni ha avuto un decremento importante, si dice del 5%, ma nell'ultimo anno ha toccato punte anche del 4%. Questo inevitabilmente tocca il budget familiare e sicuramente interviene su una difficoltà nel rispetto del piano di ammortamento della famiglia. Questa maggiore fragilità economica della famiglia di fatto ha necessità di essere aiutata. Oggi sono maggiormente i clienti che non possono rispetto a quelli che non vogliono pagare. Questo su tutta la catena del valore del credito, su tutto il ciclo, dalle politiche di accettazione sino alla gestione del default e degli impagati in particolare, c'è una maggiore necessità di raggiungere livelli di responsabilità più importanti rispetto al passato. Dobbiamo fare in modo che l'accesso al credito sia fatto in maniera più sostenibile, più responsabile, così come maggiore responsabilità dobbiamo utilizzarla nei confronti di quei clienti che hanno problematiche legate al rispetto del piano di ammortamento, utilizzando degli strumenti o degli approcci che orientino il cliente a rientro in bonus in maniera più agevolata. Come vede il futuro del credito al consumo? Oggi il settore del credito al consumo è in netto calo rispetto al passato, questo è determinato anche sicuramente da una forte riduzione dei consumi. Di fatto devo necessariamente essere ottimista, il nostro paese è un paese basato sicuramente sui consumi e il benessere di una società si misura anche attraverso la qualità di questi consumi stessi. Quindi il credito al consumo è peraltro una leva importante che sostiene l'economia, soprattutto l'economia familiare nel caso del credito alle famiglie. è una sana gestione di questo credito, si collega anche con una sana gestione di uno sviluppo economico.